La street art ci porta lontano. Siamo alla ricerca di 7 giovani creativi per realizzare un murale a San Milibia. Sei un artista di meno di 30 anni? Ti piace viaggiare e lavorare in contesti internazionali? Ma il Team Pro ti offre un'occasione imperdibile. Entra a far parte del progetto YouCood, partecipa alla call per artisti e vola con noi a Milibia. Non perdere tempo, mancano solo pochi giorni.